Ciao amici, quest'oggi ho ricevuto una richiesta speciale ebbene sì, la mia Sofia vuole una buonissima e velocissima insalata di farro andiamola a preparare insieme con gli ingredienti olio extravergine di oliva sale tonno condiriso un po' misto qualche foglia di insalata menta, primo sale, pomodorini e farro andiamo a preparare per prima cosa aggiungo dell'olio nel mio farro in modo da renderlo un po' più uniforme anche perché mi aiuta a sgranarlo meglio il farro lo abbiamo bollito in acqua bollente salata, leggermente salata metto anche un po' di sale ora andiamo a tagliare a cubetti i nostri pomodori il nostro primo sale e qualche strisciolina di insalata andiamo a condire il nostro farro mettiamo anche il tonno e poi il condiviso andiamo a girare se vi piace decorate con qualche ciuffetto di maionese e io poi aggiungo qualche fogliolina di menta Sofia, l'insalata è pronta arrivo ciao 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 ciao